Salve a tutti ragazzi sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale sulla carriera allenatore con il nostro Liverpool ragazzi ogni volta dico che è l'ultimo episodio ma non finisce più perché io continuo a vincere i tornei, i trofei e dopo ce ne sono tanti altri di conseguenza infatti oggi non siamo qui dopo la Champions League ragazzi che abbiamo vinto se vi metterò il video qui perché dovete assolutamente guardarlo un video epico oggi siamo qui per il penultimo video perché ci sarà la Supercoppa Europea contro il Wolfsburg ma oggi c'è la Community Shield io ve la devo far vedere Community Shield che dovrebbe essere il vincitore della FA Cup contro il vincitore del campionato quindi oggi sfidiamo il Manchester United ma ragazzi una cosa importante perché è l'inizio della nuova stagione siamo già nella nuova stagione e come potete vedere si è intravisto ci sono stati dei colpi di mercato pazzeschi quello più importante è che ho venduto l'Eno è arrivato un'offerta del Paris Saint Germain di 30 milioni io gli ho detto guarda ne vorrei almeno 55 per l'Eno bene me li hanno offerti io ho venduto l'Eno per 55 milioni vi faccio vedere la rosa al suo posto ho acquistato Courtois che tutto potete dirmi che tranne che è scarso quindi Courtois è il nuovo partiere del Liverpool poi la formazione è più o meno quella centrale difensiva ho preso Nastasic ho venduto un po' di centrali tipo Sacco Nastasic mi piace tanto tanto la formazione titolare è più o meno quella ma ho comprato anche degli altri ragazzi terzino sinistro Wendel poi Origi o Origi chiamatelo come volete è rientrato dal prestito ho comprato Bellerin come terzino destro Kizna ho comprato come alla sinistra da provare e poi il resto sono tutti i ragazzi che avevo già e che sono rientrati dal prestito quindi come nuovi acquisti poca roba Kizna, Bellerin, Wendel, Origi è arrivato e Nastasic come detto ragazzi pensavo di iniziare al prossimo anno una carriera con l'Inter ma potrebbe esserci una sorpresa oltre che farla con l'Inter pensavo di farla anche con un'altra squadra quindi vedremo vedremo io signori direi che si può partire con la Community Shield ma prima devo pisciare oh l'ho fatta tutta direi che si può partire con quella che noi in Italia chiameremo la Supercoppa Italiana quindi la Supercoppa Inglese si può partire si parte subito ragazzi la formazione del Manchester United che mi sono assolutamente dimenticato di vedere dovrebbe essere quella titolare proprio reale Nastasic, centrale per Emre Khan c'è subito Wendel che si ripropone tanto Royce, gran passaggio di Wendel poi Royce recupera tutto oh signor bruttissimo passaggio di Marco Royce indietro potrebbe approfittarne Van Persie Van Persie sfugge a tutti meno che a Sterling Emre Khan fa ripartire l'azione Marco Royce molto bene per Daniel Sturridge che può andare è veloce Daniel Sturridge attenzione può andare Daniel Sturridge è davanti a De Gea il tiro di Daniel Sturridge sul primo palo come in finale di Champions anche se è dall'altra parte 1-0 Liverpool Daniel Sturridge e anche nella nuova stagione Daniel Sturridge mi fa l'onda così chi lo sa potremmo rivederlo nell'Inter attenzione spoiler Daniel Sturridge di Mancino buca De Gea un tiro quasi da calcio a 5 di punta se non sbaglio no esterno sinistro fotte De Gea e dopo 8 minuti ragazzi siamo già 1-0 c'è che dire nel Manchester United strano attenzione Runei grande chiusura di Hector Bellerin su Van Persie se non sbaglio poi Emre Khan fa ripartire ancora Sturridge chiude Rocco che dira Fellaini che subisce un fallo credo io Emre Khan subisce un fallo da Fellaini si può ripartire Wendel per Lovren che ha disputato un'ottima prima stagione a Liverpool poi Marco Reus c'è Filtrante Wendel che vede Emre Khan è un po' lento Marcos Rocco gli prende il tempo poi riparte attenzione Anastasis che può chiudere su Van Persie attenzione Van Persie arriva Runei che buga Courtois così un po' ingenui qui siamo stati siamo stati molto ingenui abbiamo fatto crossare Van Persie poi Courtois non è uscito benissimo si è stato bravo Runei ad anticipare sia difensore che portiere ma comunque si riparte ragazzi uno pari siamo in pareggio Markovic vede dall'altro lato Royce quasi fanno un pasticcio i difensori del Manchester United Blind fa ripartire Runei attaccato da Bellerin se ne va Runei riesce a giocarla per Mata ancora Blind c'è ancora Mata libero ma c'è Sterling ottimo ottimo Rahem poi Saul Niggas Emre Khan Marco Royce può andare da solo può andare Marco Royce dovrà fare un numero l'elastico di Marco Royce se ne va poi rientra attenzione ancora Marco Luke Shaw riesce a chiuderlo forse troppo ma era da solo Bellerin Aper per Wendel poi Royce per Saul Niggas che può andare spinto da Chidira regolarmente ottimo intervento di Emre Khan qui su Fellaini può far ripartire in malo modo però Chidira Mata Rune si gira benissimo c'è Blind gioca benissimo il Manchester United poi Lovren che chiusura su Van Persie ragazzi Starridge fa ripartire Emre Khan si Markovic può andare nello stretto chiude benissimo Raffaele era abbastanza difficile passare dal di lì attenzione al buco ma chiude benissimo Saul Niggas Bellerin Sterling Starridge giochiamo bene ragazzi giochiamo bene ma il Manchester United chiude alla grande guardate Fellaini è abbastanza tosto a centrocampo tra con Fellaini e Chidira molto fisico poi Blind che imposta Luke Shaw che sale fa salire anche Chidira salgono tutti Rune c'è Fellaini attenzione poi Nastasic grava il recupero Courtois per Starridge prova a giocare di prima Marco Royce non teniamo il pallone devo stare un po' più tranquilli Blind grande apertura per Luke Shaw Vendel si fa inciucciare attenzione Amata la mette in mezzo attenzione Runei chiuso da Bellerin ottimamente può andare adesso può andare a Hector e finisce quel primo tempo peccato finito il primo tempo sulla ripartenza nostra guardate direi che più patta di così non si può si riparte ragazzi Runei si schianta contro Markovic Royce perde il pallone l'ha attaccato Blind poi Rafael può ripartire è veloce Rafael attenzione Chidira ancora Rafael Mata il Manchester United sta spingendo parecchio ragazzi il Manchester United sta spingendo parecchio se non è in ultra offensiva poco ci manca può andare Starridge si fuma Marcos Rocco non c'è nessuno dall'altra parte arriva adesso Bellerin ancora Bellerin c'è Saul che prova il tiro deviato da Blind sarà calcio d'angolo ci siamo ragazzi una bellissima partita per quanto mi riguarda sul filo del rasoio Marco Reus batte il calcio d'angolo forse un po' lunga per Lovren ah c'è Lindegard in porta scusate non De Gea Lindegard comunque para su Lovren poi stacca adesso Nastasic Daniel Starridge c'è da solo Markovic la finta di Lazar poi c'è il palo il palo di Marco Reus ma era fuori gioco ma era fuori gioco però gran palo di Marco Reus ragazzi mamma mia attenzione Lindegard che per poco non sbaglia il rinvio corto poi Rocco grande apertura per Luke Shaw che corre c'è Bellerin tutto chiuso però c'è Saul Niggas che fa buona guardia ottimo Bellerin si ripropone ancora Hector ancora Hector ha provato a far tutto da solo madonna Fereni che skill eh che fallo è ma che fallo è dovremmo giocare quasi tutto sulla velocità noi anche di fisico ci siamo poco Starridge Sterling riprenditi sto pallone arbitro se magari si cava dal cazzo Saul Niggas fa partire Markovic che sapete tutti che grande qualità ha minchia Raffael però Emre Khan perde il pallone Marco Royce c'è un po' di confusione adesso c'è un po' di confusione Bellerin si perde Mata Bellerin si perde Mata attenzione mamma come sono la tomata sì Nasta sì ci siamo ritornati ci siamo di nuovo adesso raga Raffael la mette in mezzo attenzione siamo scopertissimi c'è che dire se ripartiamo è molto bene se ripartiamo è molto bene Marco Royce ha provato a fare un lancio molto lungo per Markovic che sarebbe ripartito subito entra Hernandez intanto dovrei fare un qualche cambietto anch'io provo a giocarmi tutto sulla velocità metto Coutinho al posto di Emre Khan al posto di Cialunigas scusate vediamo se mi spacca a metà la partita Nastasic per Emre Khan Sterling Markovic non mi sbagliare questi passaggi Markovic che sono facili era un passaggio minchione verso Starridge poi Bellerin Markovic gran palla per Starridge un po' lenta Marco Rosso Marcos Rocco fa buona guardia attenzione Van Persin seguito da Sterling che dira Jukesho la palla non è uscita adesso ripartiamo noi con Starridge che fa ripartire Marco Royce attenzione a Marco attenzione a Marco che è da solo c'è di là Markovic c'è Markovic davanti all'Indegar ho spaccato tutto ho spaccato tutto che ripartenza ragazzi ho spaccato tutto mi sono fatto un male bestia ho battuto contro il letto ma 2 a 1 all'85 che ripartenza era questo su cui contavo era questo su cui contavo le ripartenze veloci e ci siamo riusciti loro erano troppo sbilanciati verso di me buonissima difesa poi Marco Royce ragazzi cosa ha fatto cosa ha fatto Marco mi ci ha rischiato ma 2 a 1 2 a 1 ragazzi cosa importante 2 a 1 in controtempo l'Indegar adesso si fanno i cambi però ci andiamo a difendere forse ho sbagliato forse ho esagerato ragazzi ma fa lo stesso bisogna rischiare in questo gioco perché se adesso prendo gol non ho praticamente i miei migliori giocatori in campo via sto pallone via sto pallone ragazzi via sto pallone oh ma che cazzo succede oh Righi madonna con Emre Khan grandissima azione intanto 3 minuti di recupero Marcovic cerchiamo di gestirla benissimo Emre Khan Markovic poi Sterling ancora Sterling attaccato da blinde Fellaini Coutinho ruba un gran pallone c'è Kisina dall'altra parte c'è Kisina dall'altra parte il tiro di Kisina Lindegard poi ci arriva Orighi è finita siamo campioni ragazzi siamo campioni 2 a 1 contro il Manchester United De Courtois si getta nella rete un'altra vittoria ragazzi un altro trofeo sono molto soddisfatto di questo Liverpool e sono molto soddisfatto anche di come gioco benissimo mi piace molto e quindi anche la Community Shield è nostra ragazzi prossimo obiettivo la Supercoppa Europea quella mi interessa molto contro il Wolfsburg che ha fatto una grande Europa League battendo il Napoli se non sbaglio in finale e quindi niente ragazzi questo è tutto Community Shield nostra dopo il campionato e la Capital One Cup e la Champions League questo è il quarto trofeo speriamo di fare la manita con il quinto trofeo ragazzi lasciate un mi piace un commento un consiglio noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi